Tappa napoletana per la campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull'idrossadenite suppurativa denominata Che nome dai alle tuicisti, che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione. Che nome dai alle tuicisti vede coinvolte 30 strutture ospedaliere e universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologici saranno a disposizione dei pazienti. Tra le strutture che hanno mostrato sensibilità a questo delicato argomento c'è l'UOC dermatologica dell'azienda ospedaliere universitaria Federico II di Napoli diretto dalla dottoressa Gabriella Fabrocini. Ascoltiamola. Cerchiamo di diagnosticare precocemente una malattia molto subdola. L'idrossadenite è caratterizzata da scesse e fistole al linguine, alle ascelle, in altre zone del corpo. Molto spesso comincia in pubertà ma è una patologia relativamente rara di cui si conosce poco per cui spesso anche il medico generico, il pediatra, il chirurgo generale, il chirurgo d'urgenza a cui si rivolge un paziente in caso di una scisti che si infiamma improvvisamente non riesce a dare degli indirizzi giusti terapeutici e anche diagnostico terapeutici. Da cinque anni presso la clinica dermatologica della Federico II di cui ho l'onore di essere direttore della scuola di specializzazione e responsabile dell'ambulatorio, abbiamo aperto un ambulatorio totalmente dedicato al paziente con idrossadenite in cui si fa una valutazione clinica, strumentale perché abbiamo mezzi avanzati come l'ecografia cutanea, abbiamo la possibilità in una sola visita di avere anche il parere di un chirurgo plastico, di un nutrizionista perché l'obesità molto spesso è associata a questa patologia. Ma come è possibile mettersi in contatto con l'ambulatorio di idrossadenite? Ce lo spiega il dottor Claudio Marasca. L'ambulatorio di idrossadenite è stato aperto circa quattro anni or sono e nel corso degli anni il numero di accessi si è implementato di mese in mese e di anno in anno e l'ambulatorio è ad oggi aperto. Ogni mercoledì e venerdì si accede attraverso un'impegnativa medica con suscritto visita di controllo dermatologica. esiste una mail specifica a cui i pazienti possono eventualmente indirizzare le loro richieste